Oserei dire che i primi sei mesi registrano anche delle fatiche, delle fatiche a imparare anche a fare l'amministratore per tutti noi che di esperienza probabilmente non ne abbiamo molta, però ha portato anche dei risultati e delle soddisfazioni. Soddisfazioni prima di tutto sul modo di lavorare, perché è un modo concreto, nella coalizione si lavora, si affrontano i problemi, gli assessori stanno lavorando davvero in maniera approfondita e costruttiva e quindi questo è un primo fattore positivo. Il secondo fattore positivo è che ci obbliga a studiare, ci obbliga a imparare, ci obbliga a questa situazione di novità, ci obbliga a metterci in gioco tutti i giorni e questo è un altro elemento che noi riteniamo molto buono e poi la terza cosa è che sono tutti giovani, io sono il più vecchio e quindi essendo tutti giovani ho un grande entusiasmo e grande voglia di fare e quindi pensiamo di poter portare un grande contributo alla nostra amministrazione e alla nostra città. Il bilancio in continuità con la campagna elettorale, un bilancio molto colorato, molto fumoso, molto allegro, purtroppo invece grattando si vede che la sostanza rimane poca, ci sono tanti dubbi e rimangono tante domande aperte. Le promesse che sono state fatte, alcune che vedono una risposta però parziale e molto diversa da quella che era la promessa iniziale. Faccio dei banali esempi, il progetto della piccola, un bellissimo progetto, uguale al nostro, identico, salvo per un particolare. Manca la fermata della stazione che il sindaco aveva promesso con una bella telefonata all'allora ministro De Micheli. Spero che questa promessa non faccia la fine del ministro, cioè di essere defenestrata. Un altro tema, grandissime opere, grandi promesse sui fondi europei. Alla prima uscita dell'architetto Kipar, col suo progetto, abbiamo visto oggi che al bando siamo arrivati ultimi o penultimi. Quindi insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, credo che ci sia molto molto da fare.